Voglio solo dire una cosa, perché anche questo io non posso sentire parlare un rappresentante di NCD e del governo che bisogna favorire i rimpatri. Io ricordo che questo governo, questa maggioranza, il Partito Democratico di Renzi, NCD di Alfano, hanno azzerato nella sostanza... Castaldini ti prego. Castaldini per favore, faccia completare. Hanno azzerato nella sostanza il fondo per i rimpatri. Non solo, hanno introdotto delle norme che impediscono di fatto i rimpatri, perché nella norma contro le torture, che fortunatamente deve essere ancora approvata dalla Camera, voi pensate, avete portato da 100 a 4 milioni di euro il fondo rimpatri, primo. Seconda cosa, avete introdotto una norma nel quale non si può più rimpatriare forzosamente chi proviene da paesi che non rispettano i diritti civili previsti in Italia, ovvero tutta l'Africa e tutta l'Asia, e dopo venite in televisione a dire che bisogna fare i rimpatri. Dite la verità, esattamente come fanno i 5 Stelle, che sul blog di Grillo scrivono che bisogna dura lotta all'immigrazione clandestina, e poi votano insieme a voi, insieme a NCD, insieme a NCD. Allora Fusani, Fusani scuote la testa.